ciao a tutti benvenuti in questa nuova reaction questa canzone ce l'avete chiesta in molti la band è nemofila e la canzone di station da pronti 321 ok così si parte straziando vero l'ambito stambato proprio bello bello 7 quali bene? eh non si scherza bello no? si si le parti melodiche sono belle bello 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 si anche un effetto sott'acqua si che è l'otturante Ah, così? Ah, donna! Mamma mia, alti livelli, sia strumentalmente che vocalmente, secondo me. Il timbro che c'ha non è scontato, capito? Sì, è un ritornello molto caldo, c'è la voce molto calda, trindosa, un po' graffiata. Esatto. Poi la cosa divertente è che i riff mischiano un po' cose più old school con cose più moderne, pure da solo, cioè ci sta la giusta quantità sia di cose più metal che cose più moderne, diciamo. Poi il breakdown, le parti staccate. Sì, sì, c'è il breakdown poi con le parti vocali, è figo perché nei vuoti ci sta un sacco, secondo me, e poi soprattutto non te l'aspetti il ritornello perché c'ha quella voce distorsa nella strofa, che comunque pure quello non si vede spesso. Eh, infatti non me l'aspettavo, cioè pensavo fosse tutta la linea vocale su quello stile là, invece si è aperto al ritornello, molto particolare. È bello il contrasto, sì, 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 sì. Un sacco di groove che è importante, coinvolge tanto, sì, dall'inizio alla fine, sì, non ci stanno momenti morti, dall'inizio alla fine, il pezzo va spedito proprio. Ok, noi vi salutiamo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!